...che si incontrano, prima di cui si diceva ma... ...è chi cosa fai con i camion? Mi diceva guarda, mi vado a botta ... per mi piace andare a casa la roba che vola ...fì, ha gonzetta ... ha gonzetta ... ha gonzetta, una penna, una piuma ... se ha un fasiato in un sito e zing, zing, zing biorchi ... per il porto di cinque metri dal fusile ...fì, no, un po' di lavoro da madre ... no, dice sì ... ma dice, no, il cliente non mi piace più andare a levare ... guarda, ma è consapevole ...fì, è consapevole ... ti fai nascere appena, appena, appena ... fai un po' di levare ... no, se viene levato in un sito e zing, zing, zing biorchi ... che porta lì a cinque metri dal fusile ... ma l'impossibile, no, no, lecce, lecce ... e tu? ... no, mi piace un bastardo ... ma lecce bastardo ... se bastardo ... la tardì ... ma ora era ... la scuasè lì insè ... ha gherum pees ... alla nasa ... ma non mi aherke nika col bali dal postè ...